Ragazzi voi che cosa ne pensate di questa cena, di questo pranzo alla mametta? E questo pranzo è indimenticabile, con amici, scusa, perché? Eh perché noi siamo più sfigati Più che altro questo pranzo è dedicato a tutti gli amici e i compagni di Desartica A maggior parte è Eugenio Paschera Grazie Antonino, sempre affettuoso, qua abbiamo Laura, Steve e Mario Siamo Silvano e Renato, siamo tutti qua presenti Il meglio, il meglio del meglio Buon appetito Io sono quello che ce n'ha meno di tutti, ricordatevelo sul bis No, no, guarda il mio, che è anche tu, ce n'hai il doppio